Sono appena finiti i lavori della cabina di regia che ha esaminato i dati provenienti dalle regioni italiane. Il trend è buono pressoché in tutte le regioni, il che mostra che gli effetti del lockdown sono stati estremamente positivi. Naturalmente il virus continuerà a circolare, per cui bisognerà continuare a tenere elevata guardia.